Musica Amici sportivi, appassionati di Palamano ben ritrovati, ritorna Handball Mania quest'oggi in solitudine dei nostri studi avremo Matteo Aldamonte in collegamento nella seconda parte Matteo Aldamonte che è all'Isola delle Femmine dove scatterà a breve la Champions Cup il Coppa dei Campioni di Beach Handball Matteo ci racconterà un po' che aria si respira in Sicilia Ricordiamo Sicilia che ospita per il terzo anno consecutivo la principale rassegna internazionale di Beach Handball riservata ai club Parleremo però nella prima parte, nel nostro appuntamento settimanale del massimo campionato della Serie A Beretta faremo un excursus anche sul secondo campionato nazionale ovvero il campionato di A2, girone A e girone B il girone C è ancora fermo ai box partirà fra due settimane praticamente allineandosi agli altri due gironi faremo anche un po' il punto sul massimo campionato femminile io direi di partire subito dal massimo campionato maschile dalla Serie A Beretta che ha fatto registrare nello scorso turno, nel weekend appena trascorso la sconfitta della Comersano campione d'Italia sul campo sempre molto difficile quest'anno ancora di più del Bressanone vediamo il servizio La quarta giornata di Serie A Beretta non è emozioni o almeno non soltanto è di più è roba che fa notizia perché in primis dall'Alto Adige arriva la novità della sconfitta di Conversano sul campo di Bressanone un passo falso che dà il via libera ad un'altra pugliese la Junior Raffasano a punteggio pieno grazie al 29-24 casalingo contro Bressano con ordine però la capolista e la squadra di Francesco Ancona il trascinatore almeno in termini di reti e ancora Carlo Sperti per il mancino 8 gol di fondamentale peso per trascinare i biancazzurri ad un successo importante il secondo dopo quello del weekend scorso a Trieste gran partita di Bressanone contro i campioni d'Italia nel 23-22 degli Altuatesina ai danni di Conversano c'è prima di tutto la rimonta ospiti in vantaggio 14-13 dopo il primo tempo e poi c'è una ripresa in cui l'ex Ardian i balli sigla il sorpasso dai 7 metri 16-15 in cui Arceri imbeccato alla perfezione sigla in avvolante uno dei gol più belli della giornata sono segnali, immagini di un Bressanone che conduce e di un Conversano che rincorre faccenda rara per una squadra che ha vinto tutto nell'ultimo anno e mezzo vince dunque Bressanone siamo sempre in alto adige il derby se lo giudica l'Alperia Merano che batte lo spara Reppan i diavoli neri si impongono sul 31-30 terzo risultato utile consecutivo in Serie A Beretta nel sabato di campionato si inserisce di prepotenza la prima vittoria stagionale del Cassano Magniago al palo attacca contro il Bolzano col punteggio finale di 25-23 partita da incorniciare per Federico Mazza l'unico del match ad andare in doppia cifra 10 reti a completare il quadro dei risultati ci sono i successi di Raimon Sassari e Trieste i Sardi restano imbattuti grazie all'agile 28-19 a spese del Carpi si sblocca Trieste che costringe la Team Network Albatro a condividere con i carpigiani l'ultima piazza dopo il 25-19 in terra siciliana decide una break alla Bartato di 7-0 nei minuti finali per la serie a beretta maschile ora una settimana di pausa ritorno in campo il prossimo 16 ottobre e per discutere dei tanti argomenti che abbiamo quest'oggi in scaletta abbiamo un piacere di ospitare quest'oggi in Edmond Mania il tecnico della Giara Assicurazioni Ferrara Anthony Laera ciao Anthony grazie per aver raccolto il nostro invito formazione del campionato di A2 che si sta ben disimpegnando nel Gironia del secondo campionato nazionale grazie intanto Anthony per essere in nostra compagnia quest'oggi ciao grazie dell'invito allora io direi di partire subito dal massimo campionato alla serie a beretta che è un po' probabilmente anche il sogno l'ambizione del tuo team poi ne parleremo insomma in un secondo momento ti aspettavi intanto subito la sconfitta del conversano sul campo del Bressanone? era una partita difficile sono convinto che il conversano l'ha preparata al meglio poi sono quelle partite così equilibrate decisa poi ricordiamo proprio nelle battute conclusive della confronto esatto sono quelle partite complicate che gli episodi possono portarle a tuo favore oppure a tuo sfavore io non ho avuto modo di vedere la partita ma guardando appunto il risultato e delle immagini ho visto che è stata comunque una partita equilibrata e potevano vincere entrambe poteva anche terminare in parità proprio per questo grande equilibrio intanto la regia ci propone la classifica del massimo campionato che vede in solitudine in vetta la classifica l'acqua e sapone junior Fasano di Francesco Ancona che nello scorso turno ha regolato il pressano ti aspettavi il Fasano in vetta la classifica dopo quattro partite Fasano che ricordiamo insomma per chi non segue con particolare attenzione il massimo campionato aveva chiuso in crescendo proprio la stagione appena trascorsa mi pare che su quella onda lunga dei risultati dei tanti risultati positivi conseguiti proprio nella seconda parte della scorsa stagione sta proseguendo anche in questa Fasano è una una società che ha tradizione e quindi tanta competenza quindi hanno la capacità di programmare il presente e anche il futuro con attenzione secondo me questo è il frutto di lavoro di almeno tre anni in cui c'è stato un momento in cui hanno deciso di rifondarsi ma poi il carattere le competenze gli permettono di giocare ad alti livelli come hanno fatto nel finale di stagione scorso hanno avuto la pazienza ad aspettare i loro ragazzi e oggi stanno raccogliendo i risultati in ogni caso questo è un campionato secondo me molto molto equilibrato quindi tutto può cambiare ma sono convinto che Fasano con Bersano ma anche Sassari Bersanone giocheranno ci sarà tanto da combattere per raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati d'altronde l'equilibrio lo dimostra anche la classifica che vede come dicevo in testa l'acqua e sapone Junior Fasano ma ricordiamo che per esempio Raymond Sassari che tu inserivi appunto nell'otto delle pretendenti al titolo quantomeno pretendenti ai playoff scudetto vero è che ha 6 punti ma deve recuperare una partita quindi potenzialmente è da considerarsi appaiata al Fasano in vetta alla classifica ecco l'equilibrio perché troviamo il Fasano troviamo appunto il Brixen che non possiamo considerare una sorpresa troviamo lo stesso Sassari che è a 6 punti troviamo anche se vogliamo la sorpresa a Merano squadra sempre agguerrita composta da tanti giovani ecco hai proprio anche tu la stessa sensazione che rispetto all'anno passato quando il conversano ad un certo punto fece il vuoto alle sue spalle quest'anno considerando anche l'appendice dei playoff scudetto ci sarà più lotta per la conquista dell'ambito tricolore sono convintissimo che questo campionato potrà riservare tanti colpi di scena sarà molto molto equilibrato secondo me ci sono ripeto diverse squadre che possono competere per il titolo i playoff andranno ancora di più a enfatizzare l'aspetto emotivo per il raggiungimento del titolo secondo me la favorita resta con Bersano in quanto ha vinto il passato campionato si è rinforzata molto bene e mister Tarafino quest'anno già la supercoppa quindi è ripartita vincendo la formazione di Tarafino certo mister Tarafino ci lavora da tempo con con questi ragazzi e l'anno scorso mi ha colpito la solidità la capacità di fare la cosa giusta nei momenti difficili ma sono ripeto sono convinto che tutte le altre si sono attrezzate per competere per provare a metterli in difficoltà ecco dal punto di vista tecnico Anthony tu sei un alleatore giovane chiaramente molto votato ad una palla a mano internazionale qual è l'elemento insomma avendo in maggio dato uno sguardo d'insieme a questo campionato di A1 che ti ha colpito rispetto al passato se c'è un elemento di novità secondo me siamo ancora in una fase del campionato dove squadre come per esempio Trieste devono ancora trovare il giusto rodaggio poi mentre magari anche lo stesso Conversano che comunque ha tanti giocatori nuovi da inserire in rosa quindi secondo me in questo momento tutte le squadre stanno trovando un equilibrio pur avendo nei propri roster dei giocatori d'esperienza ma poi il feeling il timing fra di loro va curato allenamento dopo allenamento dal punto di vista tattico tattico penso che oggi con con la possibilità di essere sempre aggiornati è molto facile ritrovare delle situazioni che magari rivediamo anche in campo europeo quindi una palla a mano veloce aggressiva secondo me allo stesso tempo però va gestita questa fase se non va enfatizzato tutto quello che vediamo magari nei campionati esteri perché molto spesso è il frutto di lavoro di tanto tempo quindi secondo me hanno semplicemente bisogno di abbiamo bisogno di aspettare un attimo vedere che queste squadre si trovino i giusti tempi fra di loro e poi sono convinto che vedremo anche delle novità tecnico tattiche ecco parlavi di Trieste significativo già ci propone il prossimo turno il match che attende la formazione di Fredi Radaricovic che ospiterà il Brixen Brixen lanciatissimo appunto dopo la vittoria ottenuta di Daniel Conversano sarà un banco di prova severo impegnativo per la formazione alla Bardata prossimo turno che vedrà Cassano Magnago di scena a Calpi poi il derby altoatesino tra Bosen e Alperia Merano Bolzano che insomma non sembra essere quello delle passate stagioni poi appunto Trieste e Brixen Eppan Fasano anche questa è insomma una prova importante per il Fasano quello di Appiano è sempre un campo molto difficile poi lo scontro tra Pressano ed Albatro e in chiusura Secchia Rubiera Raymond Sassari sei d'accordo nel considerare Trieste e Brixen probabilmente la partita non solo per tradizione perché è una classica della palla a mano italiana ma anche per quello che può significare nella stagione in corso la gara più importante della quinta giornata che ricordiamo si disputerà tra due fine settimana sabato sono tutti quanti fermi compresa la due sicuramente la partita che terrà noi con più facilità incuriositi a vedere la partita su Eleven Sports ma ripeto è un campionato molto 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 se ci pensi in tutte le partite che hai menzionato c'è sempre non riusciremo mai a essere certi a dire oggi non c'è una partita facile a dire oggi vince sicuramente quella squadra è un campionato veramente molto equilibrato Bressanone arriva a Trieste dopo una vittoria con Conversano ma solo la settimana precedente aveva perso la partita di uno a Sassari e quindi questo avrebbe cambiato completamente la classifica oggi quindi è la dimostrazione che nulla è scontato e questo è soltanto bello per il movimento e per noi che seguiamo la palla a mano questo rende sicuramente più affascinante il massimo campionato e spostandoci di categoria venendo alla seconda divisione nazionale al campionato di A2 quello che poi più ti interessa ovvero il girone A riscontri anche nel secondo campionato nazionale nel tuo girone lo stesso refrain lo stesso equilibrio o lì come in qualche modo lascia intendere anche un po' la classifica c'è più differenza tra le prime e le squadre di bassa classifica secondo me il campionato di il nostro girone è molto molto equilibrato poi ha delle squadre che secondo me sono le favorite qui parlo di Malo HMT che si sono sfidate lo scorso weekend ma insieme a Molteno e subito dopo tutte le altre squadre ci inseriamo in una in una rissa sportiva ovviamente per contenderci i posti di medio alta classifica ma è veramente un campionato molto equilibrato è molto stress faticoso dal punto nervoso perché veramente ogni partita è del risultato incerto anche qui non conosco bene intanto scusami Anthony perché la legge ci propone la classifica che vede appunto al comando il salumificio Fratelli Riva Molteno allenato da Branko Dumic in compagnia del Malo ricordiamo che Malo fa lì proprio l'anno passato l'appuntamento con la promozione Ciccando in maniera anche in attesa se vogliamo dai final six di Chieti poi il Torri a sette punti l'Arcom a sei punti con la squadra di Entri la era vale a dire la giara assicurazione Ferrara il Cologna cinque punti con il Palazzolo poi via via tutte le altre a chiudere il Secchia Rubiera e il Cassano Magnaco ricordiamo che tanto Secchia Rubiera quanto Cassano Magnaco sono di fatto le seconde squadre avendoci la prima squadra già in serie a Beretta questo per dare un po' un quadro ad un campionato che non trattiamo settimanalmente qui in Endbolmania a te la parola Antri no e quindi dicevo secondo me non ci sono partite facili in questo girone questo non significa che necessariamente c'è un livello tecnico alto ma la difficoltà del campionato dei campionati a mio avviso è data dall'equilibrio ciò nonostante ci sono anche delle come le squadre che ho prima menzionato delle squadre che hanno dei giocatori di assoluto valore e questo rendono permettono anche a tutti gli altri di confrontarsi con squadre che permettono comunque una crescita è molto difficile questo campionato se penso a Palazzolo che è una società neopromossa nel suo roster ha gente come Riccardi e come Di Maggio questo la dice lunga sulla sulla difficoltà del poi ricordiamo che quest'anno in A2 è possibile tesserare diversi giocatori comunitari questo ha reso ancora più se vogliamo interessante ed equilibrato il campionato proprio perché un po' tutti anche chi non ha giocatori italiani di medio alto livello può rivolgersi al mercato internazionale credo che questo sia servito soprattutto alzare un po' il livello tecnico del secondo campionato nazionale assolutamente assolutamente così davvero ci sono dei giocatori che sono fuori fuori categoria ne ho citati solo due prima ma penso al malo c'è Antic che l'anno scorso è stato un giocatore importante nella massima serie lo stesso Molteno ha in porta il signor Illich che insomma ha navigato quindi questo permette a tutti di crescere quando ti confronti con i migliori necessariamente devi migliorare è un'opportunità questa assolutamente sì prossimo turno che vedrà il malo ospite della Cologna squadra sempre di grande tradizione poi Palazzolo Vigasio la Giara Assicurazioni Ferrara che sarà di scena sul campo del Mezzocorona poi San Vito Marano contro Molteno Arcom Torri Arcobalenio Secchia Rubiera e a chiudere Casano Magnago contro Aparma il tuo team la Giara Assicurazioni Ferrara mi pare che ci sia un progetto abbastanza ambizioso alle spalle però insomma ci vuole del tempo forse probabilmente per poterlo poi mettere in pratica ma il progetto è ambizioso io quando sono approdato l'anno scorso a Ferrara ho chiesto abbiamo condiviso insieme il progetto che era quello di cercare di costruire una base quanto più solida di ragazzi del posto o comunque di studenti che per motivi di studio sono venuti a Ferrara e quindi di costruire una base solida per poi provare quando saremo pronti a salire nella massima serie sperando che con pochi innesti i pochi innesti possano essere sufficienti ad affrontare la serie A1 poi il progetto sportivo ovviamente si evolverà nel tempo e quindi quando sarà il momento sono sicuro che la società farà di tutto per ambire a palcoscenici più ambiziosi che è la volontà dobbiamo dobbiamo darci i tempi necessari per far maturare questi ragazzi che davvero si stanno impegnando tanto quando abbiamo iniziato si allenavano tre volte a settimana ora siamo passati quando sono arrivato siamo passati da tre a quattro allenamenti a settimana più due in palestra hanno lavorato tutta l'estate tranne per pochi giorni quindi davvero ce la stiamo mettendo tutta poi dobbiamo aspettare perché ci sono alcune cose che hanno bisogno di tempo e poi sono le partite da vincere soprattutto rapidamente anche uno sguardo al Gere B del secondo campionato nazionale che vede in testa il tandem Romagna-Cingoli con otto punti seguito dal Camerano sette Ogan Pescara sei punti Ogan sconfitta proprio dal Camerano nello scorso turno via via tutte le altre per Diazzurro Lions Teramo il Campus Italia bella realtà giovanile praticamente la squadra nazionale Under 17 reduce dall'importante successo ottenuto sul campo della Chiaravalle a chiudere una nobile della palla a mano italiana il Prado anche in questo caso anche in questo girone insomma Entoni Romagna Santarelli insomma è una lotta probabilmente con il Camerano come terzo incomodo la classifica già si è delineata c'è la sorpresa Ogan che ricordiamo matricola sta facendo molto bene verde e azzurro lo stesso non conosco molto bene il campionato il girone B ma conosco Romagna perché l'anno scorso era nella passata la passata stagione era nel nostro girone quindi ed è una squadra molto compatta molto preparata dal punto di vista tecnico tattico tattico e sono sicuro che cercherà di raggiungere i playoff poi c'è Cingoli che insomma lo dicono non lo dicono i numeri ma della classifica ma è una squadra costruita per tornare subito nella massima serie ha tanti giocatori che l'anno scorso hanno giocato nella massima serie quindi attrezzata e poi secondo me diverse squadre tra cui verde e azzurro un progetto che è nato sui giovani che continua a produrre dei buoni risultati non è più una sorpresa e quindi e poi c'è Teramo secondo me queste squadre poi lotteranno per il terzo posto lo stesso Camerano sono anni che fa ormai diversi anni che fa bene in quel girone quindi secondo me il terzo posto sarà una bella sfida molto buona vita prossimo turno parlavi del verde azzurro verde azzurro che ospiterà proprio Santarelli Cingoli poi Campus Italia Ambra Lions Teramo contro il Tecnocem di 85 San Lazzaro Follonica Romagna Bologna United Ogan Pescara Modulo a Casal Grande Chiaravalle chiude Prato Camerano prima di andare in pubblicità per chiudere questa rassegna approfittando di un weekend di riposo Antonio Era che è un profondo conoscitore anche dell'altra metà del cielo essendo stato per diversi anni anche alleatore in Serie A femminile con il Brescia vediamo la classifica ecco Anthony anche in questo caso mi pare quasi di ripetere gli stessi discorsi fatti a proposito della Serie A Beretta Maschile anche al femminile ci sarà grande equilibrio fino alla fine con Bressanone Salerno la sorpresa fino a un certo punto Pontinia Evice è un mestrino a giocarsi un po' nei play-off scudetto sono tutte squadre che si sono rafforzate Salerno ha cambiato qualcosina ma ha delle giocatrici che restano ancora molto forti sul panorama che fanno ancora la differenza nel panorama nazionale secondo me la squadra che più di tutte si è rafforzata e secondo me meglio di tutte è il Pontinia perché ha praticamente due giocatrici per ruolo lo dimostra la sfida che hanno giocato con Salerno che è finita in parità e poi c'è Erice e Mestrino che è un lavoro che ormai va avanti da anni è un gruppo che lavora insieme da anni quindi hanno un feeling e questa è sicuramente la loro forza sarà anche questo un campionato da molto equilibrato sembra ripetitivo ma è così secondo me Salerno resta ancora però la squadra da battere perché è una squadra abituata a vincere nella mischia ci metto anche Bressanone che praticamente con Arasai Babbo hanno ricostruito Giorgia Di Pietro Giorgia Di Pietro hanno ricostruito quello che è stato un blocco vincente della pallamano conversano femminile e quindi sarà davvero anche lì ci saranno delle sorprese poi secondo me in realtà ancora deve venire fuori il valore di altre squadre che magari sono partite con qualche difficoltà ma secondo me ne verranno fuori e quindi parlo in maniera particolare dell'Ariosto che a causa di diversi infortuni che ha subito durante la preparazione non è riuscita ad esprimersi al meglio del suo potenziale però ha un potenziale che può sicuramente che sicuramente verrà fuori nel tempo e tornerà insomma a essere quantomeno a dar fastidio alle grandi ecco volendo siamo in conclusione di questo collegamento della prima parte di Handball Mania volendo sintetizzare un filo conduttore che insomma mi pare abbia legato insomma i quattro campionati che abbiamo preso in considerazione che abbiamo passato la rassegna è il grande equilibrio questo è un dato credo al di là di tutto penso molto importante e molto indicativo no Anthony perché testimonia di una crescita del movimento a tutti i livelli e in tutti i campionati questo insomma deve far ben sperare anche in prospettiva futura visto che ragioniamo in questi termini o sbaglio dal punto di vista mentale sicuramente è un vantaggio avere squadre equilibrate significa fra di loro significa avere un campionato competitivo questo non significa che i campionati sono necessariamente dal punto di vista tecnico e tattico elevatissimo probabilmente siamo ancora lontani dai grandi palcoscenici europei ma l'equilibrio allena l'abitudine a non avere partite facili abituarsi a stare bisogna stare 60 minuti con la testa non si può mollare un attimo perché questo determina la vittoria e una sconfitta ho vissuto un'esperienza in lussemburgo era molto simile tu eri prima in classifica ma potevi perdere con la sesta in classifica perché c'era davvero tanto tanto equilibrio e questo dal punto di vista della crescita del carattere della voglia di migliorarsi sicuramente non ti fa stare sugli allori quando sai che ogni sabato devi dare il 110% per cercare di portare a casa i punti e sono assolutamente d'accordo è uno step importante che tutto il movimento a tutti i livelli sta in qualche modo mettendo in cantiere sta provando a migliorare grazie Anthony Laera in bocca al lupo anche al tuo team la giora assicurazione di Ferrara grazie in bocca al lupo ciao Anthony buon proseguimento di giornata ora ci fermiamo pochi stati di pausa poi ci trasferiremo in Sicilia Isola delle Femmine che è la splendida location della Champions Cup che partirà a breve in Sicilia tra poco mettiti comodo e scegli tu quale partita o programma guardare in diretta o indifferita sul device che più preferisci sempre e dovunque tennis padel e beach tennis tutorial highlights approfondimenti e grandi storie la sottoscrizione è inclusa nel costo della tessera fit registrati su supertennix.it e scarica l'app seconda parte di Handball Mania così come preannunciato ci colleghiamo in diretta con l'Isola delle Femmine con il nostro Matteo Aldamonte sta per scattare la Champions Cup la terza edizione italiana la terza edizione in Sicilia dopo le precedenti esperienze a Catania buon pomeriggio Matteo ecco allora intanto sistemiamo un attimo l'audio ci racconti un po' che aria tira l'atmosfera che precede insomma il fischio d'inizio di questa importante rassegna internazionale di Beach Handball beh diciamo che siamo tutti contenti di essere qua insomma le squadre gli organizzatori perché comunque la manifestazione segna il ritorno poi del Beach Handball in Italia del grande Beach Handball dopo che l'edizione scorsa non si era disputata il tempo non sta aiutando perché queste sono giornate di pioggia Isola delle Femmine quindi sicuramente questo rende complicato un po' lo svolgimento delle gare come anche ha reso complicata l'organizzazione nei giorni scorsi però diciamo che anche le due edizioni precedenti di Catania sono stati bagnati dalla pioggia quindi siamo abituati è quasi una costante insomma che accompagna la Champions Cup in Sicilia solitamente tempo bellissimo anche ad ottobre non soltanto ad ottobre però poi proprio nel momento della Champions Cup insomma Giove Pluvio decide di fare qualche dispetto al Beach Handball noi ci auguriamo che chiaramente le partite si svolgano in maniera insomma regolare che dobbiamo attenderci dal punto di vista tecnico per questa edizione o hai preparato un servizio Matteo poi a limite andiamo ad approfondire si vediamolo così capiamo anche il numero di squadre coinvolte quello che ci aspetta che ci aspetterà da qui fino a domenica e poi si ne parliamo insieme vediamo a Isola delle Femmine arriva il meglio del Beach Handball continentale dal 7 al 10 ottobre prossimo infatti la località siciliana sarà teatro della Champions Cup il più importante torneo europeo riservato alla Palamano su spiaggia che coinvolgerà le 27 migliori squadre provenienti da tutto il vecchio continente la manifestazione avrà luogo in particolare in corrispondenza dell'Ido Sirenetta con le squadre che alloggeranno tutte presso il Saracenotelle e che avranno l'opportunità di raggiungere in autonomia direttamente la sede di gara particolarmente fitto il calendario la Champions Cup procederà parallelamente al maschile al femminile chiamando in causa rispettivamente 15 e 12 formazioni con un calendario che perciò si aprirà la mattina di giovedì 7 ottobre e procederà senza sosse fino a sera il 10 ottobre domenica andranno in scena le finali che assegneranno il doppio trofeo si torna in campo a distanza di due anni dall'edizione del 2019 annullata poi per ovvi motivi quella della passata annata si ritorna in campo come detto 27 compagini coinvolte provenienti da tutta Europa un totale di 4 squadre italiane in campo tra uomini e donne ci sarà il blue team selezione con alcuni tra i migliori atleti di bichembo del panorama nazionale ma al via si presenteranno anche i campioni d'Italia del corseto alla maschile e le siciliane dell'embolerice nel torneo femminile in particolare occhio al blue team delle donne che si presenta in astre di partenza dopo l'argento conquistato nell'edizione 2019 quest'anno dando un'occhiata ai numeri circa 450 tra atleti atleti tecnici dirigenti arbitri e addetti ai lavori le nazioni rappresentate dai club in campo saranno in tutto 11 oltre all'Italia anche Spagna Danimarca Portogallo Ungheria Germania Gran Bretagna Svizzera Ucraina Olanda e Polonia le gare saranno trasmesse in diretta sul canale Twitch della Federazione Europea e sulla piattaforma YouTube della FGH Bene abbiamo seguito con attenzione il servizio preparato da Matteo Aldamonte ecco Matteo insomma volendo entrare nel dettaglio insomma cosa dobbiamo attenderci anche dal punto di vista tecnico tante squadre molto ben organizzate tra queste anche una forte qualificata rappresentanza italiana con insomma una selezione sia al maschile che alla femminile insomma dal punto di vista tecnico immagino che sarà un'edizione questa davvero molto interessante l'Italia mette in campo quattro squadre e questo non era mai accaduto quindi questo è sicuramente un dato interessante perché oltre ai due blue team che sono due selezioni di alcuni dei migliori atleti del panorama nazionale anche in preparazione poi per gli appuntamenti delle due nazionali azzurre maschile e femminile ci saranno anche il grosseto e l'erice quindi la rappresentanza italiana non manca qui ricordiamo che l'Italia riparte con la medaglia d'argento conquistata dal blue team due anni fa dal blue team femminile due anni fa con la sconfitta in finale e come quella volta anche qui le squadre spagnole partono con i favori del pronostico quindi sia Malaga per quanto riguarda il torneo maschile nel torneo femminile Almeria che è la squadra che aveva vinto la passata edizione battendo proprio il blue team probabilmente sono queste le squadre favorite se non altro perché il vicendo di Spagna è davvero ad un grado di evoluzione superiore rispetto a qualunque altra nazione europea a livello di club mi riferisco naturalmente e poi sì il livello sarà alto ci sono 27 squadre coinvolte 15 al maschile come dicevamo nel servizio e 12 nel torneo femminile l'Italia è la patria di questo sport quindi sappiamo giocare a beach and ball questo è innegabile in queste manifestazioni poi l'Italia riesce sempre comunque a portare una qualche squadra tra quelle partecipanti abbastanza avanti nel torneo l'anno scorso due anni fa anzi ci eravamo portati fino alla finale vediamo 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 come va in conclusione Matteo possiamo dare un po' qualche coordinata per i nostri appassionati sì le gare sono iniziate oggi si procederà poi fino a domenica con le finali primo e secondo posto e si gioca di fatto dalla mattina alla sera qui a Isola delle Femmine su tre campi in contemporanea il campo centrale e il campo due sono trasmessi in diretta la copertura in diretta è garantita sia dalla federazione europea sul canale Twitch questa è una novità proposta dalla federazione europea che ha scelto questa piattaforma nota al grande pubblico per il gaming che adesso sta scoprendo pian piano anche lo sport quindi questa è una scelta interessante della federazione europea di puntare su Twitch e sul canale YouTube della federazione della FIGIH invece saranno coperti sia il campo uno che anche il campo numero due della manifestazione bene grazie Matteo Aldamonte buon lavoro tanto lavoro da assolvere Matteo con il gruppo FIGIH saprà essere sicuramente all'altezza della situazione grazie Matteo buon lavoro ci ritroviamo in questi studi settimana prossima e noi ci ritroveremo settimana prossima sempre a stessa ora qui con Envolmania per raccontarvi quello che accadrà nel weekend successivo che sarà un weekend caratterizzato anche da molti impegni internazionali intanto buona giornata e buon proseguimento di giornata a tutti te rivederci ciao a tutti Grazie.